Allora ci siamo con i veterani Terranova, Bullmastiff, Doberman, Border, Pastore scozzese Appelo corto, Weimar Runner, Golden Allora, best veterani, quindi dagli juniors che avevamo visto prima, le loro prime esperienze Questi sono dei cani navigati in esposizione, sicuramente avranno vinto tante gare e sono ancora qui in splendida forma con noi Un applauso particolare a questi veterani, Terranova, Bullmastiff, Doberman, Border, Pastore scozzese Appelo corto, Weimar Runner, Golden Retriever Allora, Terranova, Doberman, Border, Golden Il Bullmastiff, grazie, signori, torniamo di là, no, per una questione di telecamere, di qua, signore Sono tutte donne È una questione di piazzamento di telecamere Vediamo adesso, quanti anni ha, signora? Nove anni per il Terranova Non vince il più vecchio, però chiediamo l'età lo stesso Ok, ecco il Bullmastiff, anche questo, nove anni, una signora Ok, ecco il Doberman, dieci anni Il Border, nove anni E ilegal del Retriever Ok, ecco ilopsia Ok, ecco il tutto Ok, ecco il mondo Grazie a tutti Allora, ci siamo al terzo posto, un cane nero, Terranova, al secondo posto per i veterani, la signora Monta ha piazzato il... non mi guarda la signora, Doberman. Giro d'onore per il Goldberg Retriever, Best Veterano. Grazie. 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 Grazie.